Io consiglierei questa scuola perché ti permette di ottenere un rapporto con i professori che in una sola altra scuola ti permette di avere. L'ambiente è molto accogliente e ovviamente creando questo legame di amicizia professionale con i professori ne conseguono i risultati migliori e un ambiente molto più piacevole. Consiglierei questa scuola perché oltre all'aspetto positivo che gli insegnanti ti reagiscono molto con gli alunni e aiutano molto, anche perché questa scuola aiuta a crescere e a formare al mondo del lavoro. Consiglierei questa scuola perché tra professori e alunni c'è davvero un bel clima, anche i professori si interessano alla tua persona e ti vogliono aiutare nei momenti di difficoltà. La parola che ho scelto è cambiamento perché devo dire che questa scuola mi ha profondamente cambiato. Ovviamente mi hanno aiutato i rapporti interpersonali con i professori e mi hanno aiutato a creare una capacità di esprimere le cose e di comunicare molto più raffinata e quindi posso dire che nella vita riesco a comunicare in modo migliore. La parola che ho scelto è impegno perché comunque per arrivare a un percorso fino alla quinta serve impegnarsi in tutte le materie e soprattutto in quelle di indirizzo. La parola che ho scelto è crescita personale perché in questi cinque anni sono cresciuto molto e questa scuola ti prepara molto al mondo di oggi, a vivere in mezzo alla gente ogni giorno. Il mio indirizzo è caratterizzato da queste tre materie che sono comunicazione, informatica e economia aziendale in cui svolgiamo molti laboratori. Queste sono materie estremamente contemporanee e utili per il futuro. L'aspetto caratterizzante della mia scuola è che abbiamo tantissimi laboratori, ad esempio economico, poi informatico e delle lingue straniere. Questa scuola ha molti aspetti positivi, però se devo pensare al migliore è che negli ultimi tre anni ci sia lo stage che ti forma professionalmente e ti inserisce gradualmente nel mondo del lavoro.